Ma domani sera arrivo presto. Perché non andiamo a Metaponto da Antonino a farci una bella mangiata di pesce? È tanto che non ci andiamo. Voilà. E la mogliettina è accontentata. Naturalmente a Milano è andato a cena con quelli dell'ufficio marketing. Per questo non mi ha potuto chiamare. E poi quando è arrivato in albergo il telefono era scarico. Ha messo il telefono sotto carica ma si è dimenticato di accenderlo. È per questo che non ha letto i miei messaggi. Quando è qui invece il telefono è sempre acceso, sempre carico. Anche adesso si illumina. Un messaggio. Grazie. Con te sono sempre così allegra, serena. M.M. già. Mi manchi già. Io impazzisco. Ingegner Mario Mantelli. È così che ha registrato il numero nella rubrica. Mario Mantelli. Ha preso proprio tutte le precauzioni. Pensa che io sia stupida. Stupida e noiosa. Invece lei? Lei è allegra e serena. Chissà come si divertono insieme. Vieni qui? HVDT. Ti prego, vieni adesso. Eh no, mi spiace. Poverina. Non può venire adesso. È andato a correre. Sai, adesso fa molta attenzione al fisico. Palestra, bicicletta, jogging. Si fa persino la lampada. È importante per l'immagine. Con il lavoro che faccio, l'alta moda ha le sue regole. Ma prima non faceva lo stesso lavoro. Prima un po' di pancetta andava bene. Adesso no. Evidentemente lei lo vuole in forma. Bello, abbronzato, muscoloso, spiritoso. Eh sì, perché con lui lei è sempre allegra. Rubrica. I. Idea moda. Ilaria Morini. Inval. Ingegner Boldretti. Ingegner Mario Mantelli. 347 25 16 98. Pronto? Pronto? Ciao Armando, sono Sabrina. Sorellina. Allora, come stai? Di merda. Ho bisogno di parlarti.